Viviamo in un mondo in continua evoluzione, dove nuovi trend demografici, cambiamenti sociali e digitalizzazione influenzano gli stili di vita delle persone, facendo emergere nuove abitudini di consumo. Per diversificare i nostri risparmi, una buona strategia può consistere nell'individuare i principali trend di consumo globale e coglierli come opportunità di investimento. Banco Posta Focus Nuovi Consumi 2028, proposto da Banco Posta Fondi SGR, la Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Poste Italiane, con delega di gestione ad Anima SGR, è un fondo bilanciato obbligazionario, a distribuzione annuale di proventi, che nel rispetto di un orizzonte temporale di investimento di circa sei anni, fino al 30 giugno 2028, punta a beneficiare del potenziale di crescita dei settori economici legati ai nuovi trend e alle nuove abitudini di consumo. Invecchiamento della popolazione L'età media della popolazione sta aumentando ovunque, facendo emergere un nuovo gruppo di consumatori senior, benestanti e con capacità di consumo importante. Millennials La più grande generazione di sempre è la prima di nativi digitali. Si concentra nei paesi emergenti e ha un potere d'acquisto sempre più elevato, che comporterà una maggiore domanda di tecnologia e forte interesse per prodotti biologici, sostenibili e salutari. Consumi Premium Il settore del lusso sembra essere destinato ad una crescita vorticosa, trainata soprattutto dai mercati asiatici e dalle generazioni più giovani. E-commerce Lo sviluppo della tecnologia, anche grazie alla pandemia, ha dato grande spinta allo shopping online, il cui utilizzo aumenta ovunque in maniera esponenziale. Gaming La crescita del settore dei videogiochi è strutturale e ha un giro di affare ad oggi superiore persino ad altri più blasonati, come cyber security e robotica. Il fondo inoltre distribuisce nei primi cinque anni un provento variabile compreso tra un minimo dell'1% e un massimo del 2,5% del valore iniziale della quota. Banco posta Focus Nuovi Consumi 2028 L'investimento per chi ha già in mente il futuro Il fondo è sottoscrivibile per un periodo limitato. Per maggiori informazioni vai su Banco posta fondi.it Banco posta fondi.it Grazie a tutti